E... bella a tutti ragazzi, sono il Cilberga, sono qui oggi, tornato a portarvi un video molto 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 breve ma molto molto richiesto, infatti, raga, cerchiamo di arrivare, facciamo a 50 likes e nulla, fatemi sapere qual è sotto nei commenti la vostra configurazione di tasti cioè quali utilizzate voi, quali secondo voi sono i migliori io oggi vi mostro molto brevemente quelli che secondo me sono i tasti migliori da utilizzare ovviamente quelli che utilizzo io, e anche per migliorare allora, io vi faccio vedere molto brevemente quelle che sono le mie impostazioni giusto per farvi capire che tasti utilizzo io vabbè, allora, per muoversi ovviamente si usa WASD cioè solitamente a meno che voi non siate mancini e quindi abbiate il mouse a sinistra e utilizziate le freccette o i numerini avete WASD, per forza saltare spazio come normale scatto, alcuni me l'avevano chiesto io utilizzo, vabbè, ovviamente il maiuscolo sinistro, quello piccolino però volendo potete invertire control e... perché control, se vedete qua crouch sarebbe abbassarsi cioè nel senso quando ci si abbassa e si spara potete invertire tranquillamente crouch e scatto ma lì è molto... molto personale fuoco ovviamente sparo con il tasto sinistro e destro del mouse fuoco sinistro e bersaglio il destro ricarica io, ricarico con R e... usa... quindi raccogli quelle robe lì con E quindi mi sembrano siano i... ehm... i tasti predefiniti come strumento raccolta ovvero questo qua che sarebbe per tenere il... per tirare fuori il piccone utilizzo il tasto centrale, questo qua, la rotellina giusto per farvi capire uso la rotellina che secondo me è molto molto bella perché è molto comoda rispetto al tasto per sparare quindi è molto vicina nulla di che come slot delle armi uso 2, 3, 4, 5 e 6 anche se devo dire l'1 non l'avevo selezionato perché è scomodo per me però 6 è molto molto scomodo da utilizzare con l'indice quindi ti lascio sempre solo bend e medic che prendi solo nel caso in cui tu non debba fightare e quindi non hai tempo per guardare e selezionare sai perché sennò lo trovi un po' con fatica attivo disattiva piccone L ma io lo utilizzo con la rotellina del mouse perché è lo stesso muro e scale qua bisogna fare molta attenzione uso Q e F infatti Q e F sono molto vicini e molto facili da utilizzare perché sono molto vicini a WASD infatti se vedete sulla tastiera qua avete F e qua avete Q che sono vicini a WASD che sono questo, questo, questo e questo quindi è molto molto facile da utilizzare come pavimento utilizzo il tasto questo qua che è il tasto per chi non lo sapesse il mio mouse ha due tastini laterali trovate il link del mouse nel video che vi mostro qua in alto a destra sono molto utili infatti con il tasto anteriore seleziona le armi in generale quindi se ho il piccone e schiaccio quel tasto lì mi passa le armi col tasto indietro invece faccio il pavimento perché se devo buildare e devo fare mette che devo fare pavimento muro scala faccio tastino laterale Q e F ed è velocissimo da fare per quello che ho selezionato quei tasti lì perché trovo veramente che siano utili come trappola mi insegna F5 ma in realtà è T perché mi pare che T sia questa qua equipaggia trappola raccoglitore di trappole quindi è molto più semplice T che lo trovate di fianco R il tetto non lo uso mai quindi ho lasciato F4 però se volete selezionare che ne so un H per dire ci può stare vabbè come cambia materiale utilizzo il tasto destro del mouse quindi nulla di che come invece sensibilità rega perché i tasti ve li fate vedere tutti uso 0,07 e ho 3500 dpi mi pare non vorrei dire una cazza ma mi pare di sì fatemi sapere che cosa utilizzate voi nulla di rega io quello che dovevo mostrava qua ho sensibilità ADS mouse 0,70 sensibilità mira mouse 0,80 ma queste qua a dirvi la verità non le ho copiate semplicemente da power mi pare per chi non lo conoscesse è un giocatore molto molto forte italiano ma penso che lo conoscete tutti sinceramente qua non si può cosa mettere quindi ho messo quelli di power e nulla rega io direi che il video può terminare lasciate un bel like un commentino che mi dite le vostre impostazioni e nulla rega ci becchiamo al prossimo ti ti oooo woooo ooo 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 ooo